I medici del Policlinico di Palermo hanno sciolto la prognosi sulla vita dell'operaio coinvolto nell'incidente sul lavoro di Casteldaccia lo scorso 6 maggio ricoverato in terapia intensiva. Esprime grande soddisfazione il professore Antonello Giarratano, direttore dell'Unità Operativa di Terapia Intensiva e del Dipartimento di Emergenza del Policlinico che spiega il paziente durante l'adegenza è stato sottoposto ad una serie di specifiche e complesse indagini radiologiche al fine di accertare e di conseguenza trattare le lesioni e i deficit clinici rilevati in particolare quelli di tipo neurologico, fisiatrico, riabilitativo e logopedistico. La funzione respiratoria è soddisfacente e stabile, non si repertono altre insufficienze d'organo. Le cure del paziente da domani proseguiranno presso l'Unità Operativa di Medicina Interna con il supporto continuato di tutti gli specialisti necessari a garantire un recupero funzionale organico e psicologico che possa restituire in breve tempo il paziente ad una vita di relazione piena con i suoi familiari.